eccoci qua siamo nel presso di victorville california e questo piccolo pezzetto molto molto particolare un simpatico mino ha deciso da 50 anni a questa parte di costruire questi alberi fratti con le bottiglie ce ne sono una marea attenzione ci facciamo sempre riconoscere guardate guardate quanti è una stupidata assolutamente sì è figo assolutamente sì addirittura c'è un siluro un fucile la domanda è ma è birra non c'erano neanche le etichette una running rock c'è un po di tutto è davvero figo è una foresta di bottiglie questo penso sia la casa di questo di questo pazzo sì sì l'ho già vista di questo pazzo che ha messo insieme tutto ciò e sta continuando non è ferma quelle bottiglie sono vecchie altre sono nuovissime ah vedi qua puoi buttare le tue bottiglie e lui poi eh ma non vale così lo aiuta no non vale così Grazie a tutti.